Tuo padre ti voleva molto bene e non si era mai perdonato di averti mandato in collegio. Mia madre e mia zia? Tua madre e tua zia sono legate da uno strano affetto, da uno strano rapporto. E chi si è preso cura di me? La verità, professore, per capirla bisogna essere ingenui. Sono certa che abbiano ucciso mio padre. Vai, melograno! L'odio, 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 l'odio di me se si spera. L'odio di me se si spera. L'importante è non bere mai quello che ti offrono gli sconosciuti. Soprattutto se donne.